Questione sicurezza è risolta a Lanciano. A tornare sull'argomento, dopo recenti fatti di cronaca, è il capogruppo di Libertà in Azione e Consiglio Comunale. Se è vero, come dice il sindaco, che in città c'è una pericolosa deriva sociale, sottolinea Tonia Paolucci, non c'è più tempo da attendere per il rinnovo del regolamento di Polizia Municipale e per rinfoltire l'organico, ora fermo a 17 agenti in servizio. Di questi, tre sono prossimi al pensionamento. Come forza civica, ormai sono nove anni che chiedo al sindaco di mettere come primo punto nella sua agenda e quindi della sua maggioranza il problema della sicurezza a Lanciano. Non si è mai voluto affrontare finché come minoranza abbiamo portato in Consiglio Comunale una mozione che ha fatto sì che il problema quantomeno venisse snocciolato poi successivamente da un tavolo fatto da consiglieri comunali minoranza e maggioranza che si sono confrontate sulle esigenze di questo territorio in merito alla sicurezza. Il comitato serve perché c'è bisogno di far percepire alla città e al territorio intero la presenza delle istituzioni, cosa che onestamente su questo territorio soprattutto manca. Sembra quasi che il problema lo si voglia, diciamo, sorvolare, affrontare a malapena, ma poi non si vogliono utilizzare quelli che sono gli strumenti che comunque il sindaco, nonché il presidente della provincia, ha, che è quello di convocare il comitato per l'ordine pubblico provinciale. Perché il problema, ripeto, non è solo un problema di Lanciano ma è il problema di un intero territorio. Dobbiamo mettere in atto tutti questi strumenti che abbiamo e come amministrazione dobbiamo porre il freno al problema che abbiamo della Polizia Municipale perché manca di strumenti, manca di attrezzature, manca di un regolamento che è ormai obsoleto e abbiamo un corpo che via via si sta riducendo proprio all'osso per i pensionamenti e tutte le unità che sono subentrate sono unità che hanno coperte dei pensionamenti precedenti. Quindi se non si affrontano in maniera proprio concreta questi problemi è inutile continuare a parlare di una città come ha definito il sindaco che va di una società che sta degradando ma dobbiamo come amministratori e abbiamo il diritto e il dovere di porre freno a questo degrado.